La ricetta che abbiamo presentato oggi sono degli gnocchi di pane raffermo con un cuore di pera conditi con una crema a base di panna, noci e grana padano. Abbiamo tagliato il pane raffermo a dadini e l'abbiamo messo in una ciotola. L'abbiamo amalgamato con le uova, il panne e il latte. L'abbiamo fatta riposare per circa 20 minuti, avendo cura di amalgamarli ogni tanto. A parte abbiamo sbucciato la pera, l'abbiamo tagliata a piccoli dadini e l'abbiamo fatta saltare nel burro per pochi secondi, in modo che la pera possa rimanere al dente. Abbiamo ripreso il nostro composto di pane, ho aggiunto un paio di cucchiaiate di farina, il parmigiano, il pan grattato e lo abbiamo regolato di sale. Abbiamo formato delle palline, fatto un buco al centro e abbiamo messo un pezzo di pera precedentemente sbollentata con il burro. Per quanto riguarda la crema di noci, abbiamo portato ad ebollizione la panna, abbiamo aggiunto le noci e abbiamo cucinato il tutto molto lentamente, fino a quando il nostro composto non si è ridotto di un terzo. Infine abbiamo aggiunto il grana, abbiamo regolato di sale e profumato con pepe macinato fresco. Abbiamo ripreso i nostri gnocchi, li abbiamo cucinati in acqua bollente salate, scolate con una schiumarola ed amalgamato con la crema di parmigiano, noci e panna. Grazie. 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 Grazie.